La canzone che ci fai ascoltare oggi perché sei qui per cantare Allora, io voglio ritornare dietro col tempo con una canzone che mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere al grosso pubblico non soltanto come attore ma anche come cantante è stata la canzone più richiesta nel 1978 venduto più di 200.000 copie un grande successo e un grande ricordo per me Aspettami Franco Dani, grazie! Preferiresti essere sola e non dormire questa sera Lo leggo in fondo al tuo sorriso Che a naspa dentro ha un cerchio chiuso E vola dietro me Preferirei lasciarti andare Mentre mi accendo da morire Ma non riesco a fare a meno Dell'onda calda del tuo seno E affondo sempre più Aspettami 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 Le isole incantate Non esistono Aiutami 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 A non pensarti Aiutami Aiutami A non amarti Ci sono giorni In cui mi chiedo Se non è meglio Se non è meglio Star lontano Per dare spazio Ai tuoi respiri Aspettami Le forme vere Ai tuoi pensieri Aiutami 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 A credere un po' meno Alle tue lacrime Alle tue lacrime Quando ritorni qui Aiutami Aiutami E ti fai piccola E ti nascondi in me E mi dai l'anima Aiutami A non pensarti Aiutami Aiutami A non amarti Aspettami Franco Dani Grazie Franco Ciao Alla prossima Ciao